In occasione del BIT, la più grande fiera del turismo ottenutasi a Milano il 14 febbraio 2013, il Chief Commercial Officer di Alitalia Gianni Peraccioni, durante un'affollatissima conferenza stampa sulle novità della compagnia per la stagione estiva 2013. Dottor Pieraccioni, quali nuovi voli avete aggiunto al medio raggio per la stagione estiva 2013? Ne sono state aggiunti 9, sono tutte destinazioni turistiche importanti soprattutto per l'estate, noi stiamo parlando di Ancara, stiamo parlando di Antalya, entrambe in Turchia, stiamo parlando di Podgorisa, Copenhagen, Cracovia, Bilbao, Montpellier e Caterinemburg in Russia, quindi che è la terza città russa più importante dopo Mosca e San Pietroburgo. Quest'inverno avete inaugurato le nuove rotte per Abu Dhabi e Fortaleza, avete in programma nuove rotte a lungo raggio per la prossima estate? Ci concentriamo sul Nord America, aumentiamo le frequenze sul New York JFK portandole addirittura a 19 la settimana che vuol dire quasi tutti i giorni 3 frequenze e questo significa un aumento significativo del traffico su quell'aeroporto, in più riprendiamo le rotte stagionali che avevamo su Los Angeles e su Chicago. Sono in corso offerte speciali per i vostri clienti? Ne abbiamo due, proprio in questo momento mentre parliamo, che sono già in corso e ne avremo molte altre durante l'estate. Attualmente stiamo presentando la promozione di San Valentino che va dal 14 al 17 febbraio, chiunque compra un biglietto sia per rotte nazionali che per quelle internazionali di medio raggio ha una tariffa speciale e inoltre può comprare il biglietto per il proprio compagno o compagna a 1 euro escluse le tasse. Quindi una offerta per viaggiare insieme e per farsi un buon weekend da qualche parte con la persona a cui si vuole bene. Abbiamo un'altra promozione che è quella di Siracusa, offriamo Siracusa fino al 21 aprile. Cosa significa? Abbiamo una tariffa speciale per Catania da tutte le basi che abbiamo in giro per l'Italia. Con questa tariffa si ha diritto di stare a Siracusa e ottenere uno sconto di 85 euro su un soggiorno di tre notti presso una delle strutture alberghiere della città di Siracusa.